Un animale molto bello, con movimenti molto eleganti, purtroppo qualche persona molto stupida, ma anche molto crudele, le ha tagliato la coda. Dubito che tratti di un incidente perché è un taglio nettissimo, immagino che sia dovuto al fatto che questi animali hanno sulla coda un pungiglione, un aculeo, che inietta una tossina simile al tetano, ma ovviamente bastava tagliarle il pungiglione. Le trigoni vengono sotto costa a partorire, non so se questa debba partorire, adesso lo vedremo, speriamo che esista. Tutti gli anni noi diciamo, e molti bagnini lo sanno giustamente, svolto salvataggi, di non avvicinarle, lasciarle stare, che poi una volta partorito se ne vanno e anche i cuccioli se ne vanno. Questa probabilmente era stata presa o in una rete o a un lamo, chi l'ha presa ha pensato bene di fare questo scempio.